Tredicesimo canto del Purgatorio. Siamo nella seconda cornice ed è la cornice degli invidiosi. Dante, guidato da Virgilio, è passato dalla prima alla seconda cornice. La prima cornice è la cornice dei supervi, dove Dante si è ritrovato, ha ritrovato in modo particolare il suo peccato, il suo errore, che era già stato in qualche modo denunciato nel primo canto dell'inferno, laddove la superbia che gli impediva di salire era stata posta in allegoria con l'immagine del leone. Come al solito vi do il mio metodo, che è questo. La I lunga mette in evidenza un enjambement, la A mette in evidenza un anastrofe, la TR mette in evidenza un troncamento. Io li ho scritti, evidentemente non li ripeto, specialmente là dove non è necessario. Un dimandare è evidente che è un troncamento. Anche qui, se qui per dimandare gente, beh, questo è un iperbato, quindi è una cosa differente, ma qui ad esempio dove secondariamente si risega lo monte, dove lo monte si risega secondamente. C'è una costruzione che è differente da quella che si pone normalmente in italiano con soggetto, predicato verbale, poi complemento oggetto oppure parte nominale, se ci troviamo in predicato nominale. Cominciamo. Noi a una cosa, non è molto difficile questo canto, sia per il commento, sia per la comprensione. Ci sono però tanti termini, quindi mi sono proposto di lavorare in modo particolare sul lessico, laddove questi termini o se ne impara il significato alternativo con un vocabolo più usato, oppure io, come questo risega, che l'ho fatto derivare dal verbo latino re, più seccare, ritagliare, se ne trova la derivazione etimologica. Forse in questo modo si riesce a tenere più a mente il significato del lessico e del vocabolo stesso. Quindi ci sono molte derivazioni latine, uno dice ma perché le altre parole non derivano dal latino? Sì, ma le altre parole, gli altri vocaboli, non so, per esempio, al sommo, no? Eravamo, è evidente che derivano dal latino. Eramus, da eramus diventa eravamo. Sommo è summus aum, è un superlativo irregolare. Però questi vocaboli sono entrati ormai nell'uso comune, li riconosciamo. Altri vocaboli, invece, come dismara, come risega, non sempre sono nel vocabolario quotidiano, particolarmente per i più giovani. Quindi io ho ritenuto, per esserne più consapevoli, di rifarmi alla derivazione etimologica dal latino. Dunque, noi eravamo al sommo della scala, dove secondamente si risega lo monte che salendo altrui dismana. Noi ci troviamo sulla sommità della scala, dove il monte si ritaglia una seconda volta. Quel monte che dismana, dismana da dismalum, togliere il male, che toglie il peccato salendo. Toglie il peccato altrui un complemento oggetto, toglie il peccato agli uomini salendo. Qui questo dismana ha due derivazioni, il dis e di derivazione greca, il male umidazione latina, e poi si arriva, con questo assemblamento, a il significato di togliere il male, purificare sostanzialmente. Ivi, così, una cornice lega d'intorno il poggio, come la primaia, se non che l'arco suo piuttosto piega. Qui, una cornice lega dall'igare, dall'igo latino, abbraccia tutto intorno il poggio. Il poggio da podium, luogo sporgente, è appunto la cornice che abbraccia questa zona sporgente. Il poggio, normalmente, viene predicato di una zona che sporge, creando un breve, più o meno esteso, o anche molto ristretto, piano, su una, appunto, una pendenza, come la prima. Se non che, l'arco suo, quindi la sua circonferenza, piega più tosto. Tosto è un avverbio che è composto o da isto isto, o da momento isto. Piega, quindi, più direttamente. Ombra non li è né segno che si paia. Parsi la ripa e parsi la via schietta col livido color della petraia. Non c'è ombra lì e neppure appare alcun segno, questo sipaia da sé, apparere, mostrarsi. Questo parere viene ripetuto più volte con anafora. Parsi la ripa e parsi la via schietta. Si vede chiaramente la riva del monte, si vede con chiarezza la via chiara, semplice, diritta, che ha però una caratteristica. Ha il colore della petraia. Petrarium vuol dire cava di pietra, quindi ha un colore livido. Qui si potrebbe anche, non l'ho scritta, mi viene in mente adesso, potrebbe anche esserci una perifrasi. Perché? Perché invece di dire semplicemente, si paia, appare una riva, non appare ombra alcuna, si mostra una via semplice, diritta, tutto di colore grigio, grigiastro, livido. C'è invece un giro di parole che è col livido color della petraia, quindi abbiamo perifrasi. Se qui per dimandare gente s'aspetta, ragionava il poeta, io temo forse che troppo avrà d'indugio nostra eletta. Se qui s'aspetta gente per dimandare. Se noi qui attendiamo qualcuno per chiedere notizie, così pensava Virgilio, anche qui il poeta potrebbe essere, non l'ho scritto, vengono fuori queste cose per Antonomasi. Virgilio è il poeta, Virgilio è il padre, Virgilio è il duce, è la guida. Temo, forse, che nostra eletta, nostra eletta da eligere, scegliere, scelta, e c'è di nuovo un iperbato, che la nostra eletta avrà troppo d'indugio. Notate anche questa costruzione latina, che è la tipica costruzione del partitivo di quantità. Troppo d'indugio. Noi in italiano diciamo troppo indugio. Il latino, invece, usa spesso il genitivo prima di questo pronome. O potrebbe anche essere un avverbio. Quindi, come mai questa riflessione da parte di Virgilio? L'ho sintetizzata qui. La ragione, che è appunto rappresentata da Virgilio, sa benissimo che gli invidiosi non si muovono. Gli invidiosi sono chiusi in se stessi. E l'invidia non permette di aprirsi agli altri. Quindi, dice Virgilio, se noi stiamo qui ad aspettare, non ci troviamo nessuno che ci possa, in qualche modo, indicare la giusta via. E allora, qual è la soluzione? Poi, fisamente al sole gli occhi porse, fece del destro lato a muover centro e la sinistra parte di sé torse. Qui c'è una lunga perifrasi. Proviamo a pensarci. Fisamente, e mente fissa, con mente attenta, no? Porse gli occhi al sole. Di nuovo un iperbato. Poi, porse fisamente gli occhi al sole. Qui il sole rappresenta sempre Dio. È il sole che illumina la strada. È il sole che ci dice quale sia la soluzione migliore da cogliere. Allora, visto che non ci si può confidare con nessuno, visto che le ombre non ci sono, visto che la strada è deserta, la cornice si presenta totalmente deserta, l'unica soluzione è rivolgere gli occhi al sole. Quel sole, già che Dante aveva visto nel primo canto dell'inferno, che però difficilmente si poteva raggiungere senza aver prima esperito tutta una situazione che Virgilio gli fa conoscere passando attraverso l'inferno. Poi abbiamo una lunga perifrasi Fece del destro lato a muover centro. Fece centro del destro lato a muoversi. Quindi, pensate per un momento, il tallone del piede destro diventa il centro di una immaginaria circonferenza. E la sinistra parte torse di sé e girò quindi la parte sinistra. Sostanzialmente, Virgilio si muove verso destra. O dolce lume A cui fidanza i entro Per lo nuovo cammin Tu ne conduci Dicea Come condursi vuol Qui in centro O dolce lume Lume è il sole Lumen luminis è latino O dolce luce Attenzione a questo aggettivo Dolce Utilizzato in mille situazioni Da Dante Dulcis vuol dire Soave, grato, piacevole E deriva evidentemente Dal latino dulcis Poi Una luce dolce E una sinestesia Ma non basta Questo dolce lume Continua l'allegoria precedente E' la grazia divina A cui fidanza Dal latino fidere E' un participio passato Avere fiducia A cui io In cui io Ho fiducia E grazie al quale Io entro in un nuovo cammino Nuovo C'è il monotongo Dove UO diventa OVO Cammini E' un troncamento Tu ne conduci E' un invito Conducici Facci la guida Un imperativo Dicea Abbiamo la caduta Della laviale Diceva Come Si vuol Condurre Qui dentro Anche qui Qui in centro E' composto Da un ecce inc Ecco qui Come E' opportuno Essere condotti Qui Su questa cornice La seconda cornice Del purgatorio Continua la preghiera Di Virgilio Tu scaldi Il mondo Tu Sovresso Luci S'altra ragione In contrario Non pronta Esser Dien Sempre I tuoi raggi Luci E' L'attributo Anzi Due attributi Dell'amore divino Che riscalda E illumina Luci La luce E' risplendere Latino No? Quindi Tu Riscaldi il mondo Col tuo calore E tu Lo illumini Allora Se non c'è Altra ragione Contraria Non pronta Latino Promere Cioè mostrare Se non si mostra Altra ragione Contraria A Questo viaggio Esser Dien Sempre I tuoi raggi Vedete che c'è anche di voi Un iperbato Con anche due troncamenti I duci Deriva da duci Sguide Dien Non è soltanto un troncamento Ma anche una sincope Per cui I tuoi raggi Siano Devono essere sempre La nostra guida Le nostre guide Qui un plurale Quanto di qua Per un migliaio Si conta Tanto di là Eravamo noi Già iti Con poco tempo Per la voglia Pronta Abbiamo una Abbiamo una subordinata Comparativa Come al solito La comparativa Tranne casi Particolarissimi Anche seguendo la costruzione Della sintassi latina È al primo posto E dopo la proposizione principale Quindi Noi Eravamo avanzati Iti Evidentemente È latino Ioissi Vitumire Eravamo avanzati Tanto quanto Di qua In questo mondo Si potrebbe contare Per un miglio Con poco tempo Oltretutto In poco tempo Perché? Perché il desiderio Era grande Il desiderio Di incontrare Le anime Che soggiornavano Su questa cornice E Verso noi Volar Furon sentiti Non però visti Spiriti Parlando Alla mensa D'amor cortesi Inviti Qui A parte i troncamenti C'è un iperbato Un po' complesso Spiriti Furono sentiti Non però visti Furono sentiti Volare Verso di noi Mentre parlavano Questo parlare Che per lo più È considerato Un verbo Intransitivo Qui Ha Valore transitivo Infatti Ha come complemento Oggetto Inviti cortesi Quindi Mentre noi Avanzavamo Lungo la seconda cornice Ecco che Spiriti Non visti Li sentimmo Proferire parole Cortesi Qui io Ho fatto Il riferimento A cos'è cortese Cortese deriva Da cortem Cortensem Poi passerà Cortem È semplicemente Una parte Dell'esercito romano Delle legioni Da cortem Diventa cortensem Viene Ereditato Dal francese Courtois Dove C'è tutta La leggenda E tutta La tradizione Cavalleresca Per cui Questo significato Assume Questo Il significato Diventa Non più Con caratteri Militareschi Ma viene Ad assumere Il significato Di generoso Disinteressato Maglianimo Grazioso Quindi Ci offrono Questi spiriti Inviti Maglianimi Dove Alla mensa D'amore La mensa D'amore È evidentemente Una metafora A questo Banchetto D'amore Che Si presenta Non più evidentemente Siamo nell'inferno Si presenta Agli occhi Di Virgilio E di Dante La prima voce Che passo volando Vino una nave Inaltamente disse E dietro a noi L'andò Reiterando Viene ripreso Un versetto Del Vangelo E la prima Voce Che passa Dice E ripete Non avete vino Vedete che c'è anche Il plurilinguismo Dantesco Ne vedremo altre Espressioni Vedremo dei gotismi Abbiamo dei grecismi Qui addirittura Viene ripreso La proposizione Latina Non hanno vino Sono le parole Di Maria Che strappa A Cristo Il primo Miracolo Ed è Un Miracolo Tutto Rivolto Verso Gli altri Verso Cioè Una situazione Di imbarazzo Che poteva In qualche modo Quella festa Specialmente Da parte Dei protagonisti Patire Trovandosi Nella mancanza Di vino Quindi Un esempio Di generosità L'attenzione Verso gli altri Che è appunto Un comportamento Opposto Alla Invidia Che l'acere Il cuore E chiude In se stessi Ogni Espressione D'amore E questo Vino Noname Viene reiterato Anche qui C'è uno dal latino Reiterare Ripetere Dietro le spalle Dei poeti Che procedono Qui ho messo Un iperbato E l'andrò Reiterando Dietro a noi E prima che Del tutto Non si udisse Per allungarsi Un'altra Io Sono Reste Passo gridando E Anco Non si affisse E prima che Non scemasse Cioè non Venisse Meno del tutto Per allungarsi Per la lontananza Un'altra voce Risuona Nell'aria E questa voce È Quella Dell'amico Probabilmente Cugino Di Oreste Pilade Che Ripete Io sono Oreste E Anco Non si affisse E Anco Da Aduk Latino Non ancora S'affisse Affiggere Non si fermò La storia Di Oreste Di Pilade Due cugini Oreste Vi ricordate Aveva ucciso La madre Criterinestra E l'amante Che a loro volta Avevano ucciso Il padre Di Oreste Agavenone Viene giudicato E Giudicato Condannato a morte Qui La mitologia Non è chiara Perché Ci sono diverse versioni E L'amico Pilade Proprio per salvare Oreste Ripete Più volte Io sono Oreste Cioè Io Devo essere Vesso a morte E non lui Oreste A sua volta Ripeterà Io sono Oreste Cioè Tutte e due Ripetono Io sono Oreste Mettendo in difficoltà Gli esecutori Della punizione Qui L'amore diventa Ancora più intenso Non è semplicemente L'attenzione Verso Un momento di difficoltà In una festa Perché là Mancava il vino Ma È Un'espressione Di amicizia profonda Notate come al solito Come gli esempi Del Vangelo Sono frammisti Con esempi Tratti Dalla mitologia Antica E Dante Non vede in questo Nulla Che possa In qualche modo Destare scandalo Ora capriccio O Disse io Padre Che voci sono queste E come io domandai Ecco la terza Dicendo Amate Da cui male Aveste Padre Per Antonomasia Virgilio Sono esempi Attenzione Che Possono essere Intesi In un clima Sascendente In primis Abbiamo Questo Imbarazzo Che Viene affrontato Da Maria Madre di Gesù In questa festa Dove manca il vino Poi Si passa All Alla Alla Un rapporto Di amicizia Profondo Dove L'amico È pronto A dare la vita Per il proprio amico Poi C'è un'altra Citazione Del Vangelo Dove C'è un superamento Stesso Dell'amicizia Dove Quando Cristo Vi ricordate Dice Se voi amate Solamente Quelli che vi amano Che differenza C'è tra voi E i pagani Ecco Amate Anche Chi Non vi ama Quindi Esempi In Climax Ascendente E il buon maestro Questo Cinghio Sperza La colpa Dell'invidia E però Sono tratte D'amor Le corde Della Ferza Maestro Per antonomasia Spiega Dante Questo cinghio Da cingulum Cintura Questa cintura Questa frusta Sperza Le colpe Dell'invidia È evidente Che Non lo neanche Scritto Però Potremmo Potremmo anche Scriverlo È una Metafora Perché Voi capite Capite che L'invidia È un È un vizio È È un errore Dello spirito Quindi non ci può essere Una frusta Che In qualche modo Può Sferzare Le colpe Dell'invidia È una Metafora Laddove Una Immagine Materiale Cerca In qualche modo Di Rivelare Il rapporto Tra Queste Parole E Il peccato Dell'invidia Che devono Qui scontare Le anime Purganti E però Sono tratte D'amore Le corde Della Ferza Ma Le corde Della Ferza Ferza Da ferula Bacchetta Sferza Di nuovo Vedete Sferza Ferza E sostanzialmente La stessa cosa Le Corde Della Frusta Sono tratte Dall'amore Che è appunto L'opposto Del Vizio Dell'invidia L'offreign Vuol essere Del contrario Suono Credo Che lo dirai Per mio avviso Prima che giunghi Al passo Del perdono Il freno Vuole Essere Suono Del contrario Le parole Vogliono essere Il freno Che si deve Porre Al vizio Dell'invidia Penso che Lo capirai A mio avviso Prima che potrai Giungere al passo Del perdono Il passo Del perdono E dove Poi Dal secondo Dalla seconda Cornice Si passa Alla terza Cornice Laddove Virgilio Cancellerà Una delle P Delle sette P Stampate Sulla fronte Di Dante Ne ha già Cancellata Una Quella Della Superbia Terminato Il giro Sulla Cornice Ne Cancellerà Una seconda Quella Dell'invidia Ma Ficca Gli occhi Per l'aere Benfiso E vedrai Genti Innanzi A noi Sedersi E ciascun È lungo La grotta Assiso Ma Ficca Da fingere Latino Fissare Che Poi Spiega Anche Il fisso No Allora Punta Gli occhi Attraverso L'aria E sta ben attento Aere Anche a questo Un termine latino E vedrai Gente Seduta Davanti A noi E Ciascuno È Assiso Lungo La grotta E ciascuna È posto A sedere Lungo La grotta Qui ci sono Due termini Assiso Da assidere Che poi diventa Assisum Posto a sedere E grotta Che è dal latino Cripta Cavità Alta E profonda E si può anche Pensare Che ci sia Una sporgenza Laddove Queste anime Sono sedute Stanno sedute Quasi ad ombrello Notate che Dante Non aveva colto La presenza Di queste anime E poi vedremo Perché sono coperte Da un mantello Dello stesso colore Livido Della roccia È per questo Per questo che Virgilio Lo invita A guardare Attentamente Attraverso L'aria Allora Più che prima Gli occhi Gli occhi Apersi Guardavi Inanzi E vidi Ombre Con manti Al colore Della pietra Non diversi Vedete Allora Puntai Gli occhi Con una maggiore Attenzione Guardai Inanzi A me E vidi Delle ombre Coperte Da manti Non diversi Dal colore Della pietra Come ho detto prima Ci sono diverse Anastrofi Allora Più che mai Prima Ha persi Gli occhi La prima anastrofe Guardami Inanzi E vidi Ombre Con manti Guardai Inanzi A me E vidi Ombre Con manti E poi Non diversi Al colore Della pietra Un'altra Anastrofe E poi Che fumo Un poco Più avanti Udia Gridar Maria Ora Per noi Gridar Michele Pietro E tutti i santi Stanno recitando Queste Anime Le litania Dei santi E quando Fumo davanti A loro Udia Di nuovo La caduta Della labiale Udiva Gridar E di nuovo Un troncamento Maria Ora 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 Sorabio Ora Tumorale E un Termine Che deriva Direttamente Da latino Vuol dire Maria Prega Per noi E poi Questo Gridare Gridare Tutte volte Può essere Un'anafora E gridare Ancora Michele Prega Per noi Pietro Prega Per noi Tutti i santi Pregate Per noi Non credo Che per terra Vada Ancoi Omo Si duro Che non Fosse Punto Per Compassion Di Quel Chi Di Poi Non Credo Che in Terra Ci sia Un uomo Così duro Di cuore Ancora Ancoi Notate Che deriva Dal latino Ed il composto Di Anc Odia In questo Giorno Omo È Una Derivazione Chiaramente Latina Omo Ominis Quindi Non Penso Che in Terra Ci sia In questo Giorno Un uomo Così duro Che non Fosse Punto Punto Da Pungere Che diventa Puntus Quindi Che non Sia Penetrato Che non Potesse Essere Penetrato Dalla Compassione Per tutto Quello Che io Vidi In un Secondo Momento Adesso Dante Ci racconta Quello Che ha Visto Che Quando Fui Sipresso Di L'or Giunto Che Che gli atti Loro A me Venivano Certi Per gli occhi Fui Di grave Dolor Munto Perché Questo Fui Fui Giunto Presso Di Loro Quindi Un'anastrofe Così Che Le loro Azioni Ormai Potevano Venire A me Sicure Fui Munto Di grave Dolore Per gli occhi Munto Deriva Da latino Mulgere Far Uscire Fuori Quindi Un grave Dolore Usci fuori Dal mio Cuore Proprio Attraverso Quello Che Potei Vedere Attraverso Gli occhi Con gli occhi Di Vil Cilicio Mi pare Ancoperti E L'un Sofferì All'altro Con la Spalla E Tutti Dalla Ripa Erano Sofferti Notate Che Siamo Ancora Alle prime Battute E poi C'è Di Peggio Mi Parevano Coperti Di Cilicio Vile Cilicio Con una Stoffa Tessuta Con Peli Di Capra Anche Questo Un termine Latino E L'uno Sofferì Adama Subfero Che vuol dire Portare sotto Portava L'altro Con La Spalla Notate Che Con Sofferì C'è La caduta Della L'abiale La B Quindi Uno Portava L'altro Sulla Spalla E Tutti Erano Portati Quindi Tutti Si appoggiavano Alla riva E qui Abbiamo Una Semilitudine Così Li ciechi A cui Li ciechi A cui la roba Falla Stanno A perdoni A chiedere Loro Bisogna E l'uno Il capo Sopra L'altro Avalla Perché In altrui Pietà Tosto Si pogna Non pur Per lo Suonare Delle parole Ma per la vista Ma per la vista Che non meno Agogna C'è un sono Qui sottointeso Così Fanno O sono I ciechi A cui Falla Da fallere Viene Meno La roba Le cose I ciechi Che non possono Vedere Intorno A loro Quindi Così fanno I ciechi Stando A perdoni A chiedere Loro bisogna A perdoni Fuori dalle chiese I perdoni Sono le indulgenze Nelle feste Particolarmente Impegnative La chiesa Offriva Delle indulgenze C'era Affluenza Di popolo E i ciechi Alla porta Delle chiese A perdoni Quindi Chiedevano La carità E cosa fanno Questi ciechi E l'uno Il capo Sopra l'altro Avvalla È un iperbato E l'uno Avvalla Il capo Sopra l'altro E uno Appoggia Il capo Sopra la spalla Dell'altro A quale fine A quale scopo Perché In altrui Pietà Tosco Si ponia Affinché Subito La pietà Possa Nascere Nel cuore Altrui Non pur Pur Deliva dal latino Pure Semplicemente Non semplicemente Per il suonare Delle parole Non solo Per le parole Ma per la vista Che Non meno Agonia Per greco Agonia Chiedere con sforzo Quella vista Che Non la vista Evidentemente Dei ciechi Ma la vista Della gente Che vede Questa triste Situazione Ma grazie Alla vista Che Raggiunge il cuore Con uno sforzo Maggiore Cioè In poche parole Una vista Di questo genere Dei ciechi Che appoggiano Il loro testa Sulle spalle Di un altro cieco La vista Vuole dire Molto più Delle parole E quindi I ciechi Tentano in qualche modo Di impietosire In quella vista La gente E quindi Di poter ricevere Una elemosina Un aiuto superiore A quello sperato Quindi Abbiamo capito Dunque Che Queste anime Sono cieche E come Agli orbi Non approda il sole Abbiamo di nuovo Un'altra similitudine Così all'ombra equivi Onde io parlo ora Luce del ciel Di sé Largir Non vole E anche qui C'è una ragione In allegoria Di nuovo La comparativa Prima della principale E come Ai ciechi Il sole Non approda Questo approda Ha una Un'etimologia Tedesca Di cui si Di cui si Vede anche Il plurilinguismo Dantesco Ho detto che Qualche parola L'avrei messa in evidenza Oltre alle etimologie Di deliberazione latina Così Alle ombre Di cui io parlo ora La luce del ciel Non vuole Largire se stessa Non vuole arrivare Ricordate come Largire In latino vuol dire Essere generoso Quindi Non vuole essere generosa Nei confronti Di questi peccatori Ricordatevi Che il sole Rappresenta sempre La grazia di Dio Il calore La luce L'amore E Per pena Sempre del contrapasso Anche qui Del purgatorio Queste anime Che non Ho saputo amare Né aprirsi agli altri Nella luce Nel calore Così In questo momento Pattiscono Il buio Della notte Quel buio In cui Spiritualmente Hanno voluto Vivere E adesso Vediamo per quale motivo Queste anime Sono cieche Dante Riesce a Presentare Una situazione Abbastanza Macabra Che ha tutti Un fil di ferro I cigli Fora E cuce Si Come a sparvier Selvagio Si fa Però che Queto Non dimora Perché Un filo Di ferro Fora Nel senso Di forare Bucare Buca I cigli A tutti Sarebbe più giusto Dire Le palpebre Forse Anche qui Abbiamo Una Metonimia La parte Per il tutto E di cuce Come si fa Per lo sparviero Selvagio Affinché Stia tranquillo Questa Questa è Forse Un pensiero Tratto Dal De Arte Qui ho sbagliato A scrivere De Arte Venandi Di Federico II Per Addomesticare Uno sparviero Selvagio Si cucivano Le palpebre Perché Altrimenti Uno sparviero Vedendo L'uomo Istintivamente Sarebbe Scappato E non si sarebbe Potuto Domesticare A me pareva Andando Fare Oltraggio Vegendo Altrui Non essendo Veduto Perché Io mi volse Al mio Consiglio Saggio Mi sembrava Camminando Così Tra questi Ciechi Di fare Oltraggio L'oltraggio Deriva Da Ultra Justum Al di là Del giusto Di fare Un'offesa Perché Io vedevo Gli altri Ma loro Non potevano Vedere me E proprio Per questa Ragione Mi volsi A Virgilio Che qui Viene definito Consiglio Quindi In metonimia L'effetto Al posto Della causa Ben Sapevei Che volea Dire Lo muto E però Non attese Mia dimanda Ma disse Parla E si è breve E arguto Volea Di nuovo La caduta Di una labiale Dunque Ei Sapeva Bene Che cosa Voleva dire Il mio Muto C'è sottointeso Cenno Il mio cenno Muto Il fatto Cioè Di essermi Rivolto Verso Di lui E però E perciò Non attese La mia domanda Ma rispose Già subito Parla Chiedi quello Che vuoi Ma nel parlare Non tirarla Per le lunghe Devi essere breve E arguto Da arguere Penetrare Intellettualmente Quindi Breve E penetrante Virgilio Mi venia Da quella Banda Ecco qui Banda Io ho messo Che un gotismo No Virgilio Mi venia Da quella Banda Della cornice Onde cadersi Puote Perché da nulla Spondasi Inghirlanda Anche Inghirlandarsi Un gotismo Un linguismo Dantesco Venì Era caduta Dalla Biale Veniva Virgilio Veniva Da quella Parte Della cornice Dove si può Cadere Ecco L'attenzione Di Virgilio Che è L'allegoria Della ragione Il maestro Che In qualche modo Cerca Di arginare Un possibile Errore Del discepolo Puote Tapotest E il puo La o che diventa Uo E una forma Poetica Dove si può Cadere Può Perché si può Cadere Perché Singhirlanda Perché La cornice Non è Sorretta Da nessuna Sponda Non è protetta Da nessuna Sponda Dall'altra Parte Meran Le divote Ombre Che per L'orribile Costura Preme Ansi Che bagnavano Le gote Dall'altra parte C'erano Le ombre Divote Divote Da devovere Cioè Consacrare A Dio Dio Erano Ombre Ormai Consacrate A Dio Perché Erano Sul Purgatorio Quindi Erano Destinate Al premio Eterno Che A causa Di questa Orribile Costura Da Consuere Il cucire Da questa Orribile Cucitura Premivano C'è sottinteso Le lacrime Così che Le lacrime Bagnavano Le loro Gote Volsimi Allor E Ogente Sicura Incominciai Di veder L'alto Lume Che Il Desio Vostro Solo Ha In Sua Cura Mettiamo Questa Nella Così Possiamo Vedere Tutto Assieme Così Se Tosto Grazia Resolva Le schiume Di Vostra Coscienza Si che Chiaro Per essa Scende Dalla Menta Il Fiume Ditemi Che Mi Fia Grazioso E Caro Sanime Qui Tra Voi Che Sia Latina E Forse Lei Sarà Buon Si Lapparo Volse Mi Volse A Loro E Queste Furono Le parole Di Dante Ogente Sicura Di Veder L'alto Lume Lume Luminis Latino Ogente Sicura Di Giungere A Contemplare La Luce Divina Quella Luce Che Il Vostro Desiderio Ha Solo Come Unico Obiettivo Disio E Un'uscita E Un Lessico E Un Vocabolo Latino Deriva Dal Latino C'è Tutto Un Ho Fatto Un Esempio Deriva Da Desiderium Dove Ider Cade Diventa Desium Poi Cade La M Diventa Desio E Desio La Stessa Cosa Cura 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 Invece Tutto Questo Cambiamento Non c'è E Cura Può Rimanere Anche L'italiano Anche Se Non è Un Vocabolo Utilizzato Diciamo Preoccupazione Obiettivo Intento Di Di Nuovo Se Tosto L'abbiamo Già Visto La Sua Derivazione Latina Poi C'è Schiume Che Anche Questo Deriva Da Sfuma Sfuma Impurità Quindi Che Il Desio Vostro Solo Ha In Sua Cura Se Tosto Grazia Resolva Le Schiume Di Vostra Coscienza Qual è la Preoccupazione Che Più Presto Possibile La Grazia Divina Possa Ripulire L'impurità Della Vostra Coscienza Così In Modo Così Chiaro Così Limpido Perché Attraverso Questo Questa Purificazione Possa Scendere Il Fiume Fiume Della Mente Cioè Del Ricordo Però E' Bene Rifare La Costruzione Dunque Resolva Le Schiume Di Vostra Coscienza Abbiamo Anche Una Jambemant Qui Che Non Ho Scritto Sì Che Il Fiume Della Mente Scenda Chiaro Per Essa Così Che Il Fiume Del Ricordo Possa Scendere Attraverso Essa Attraverso La Grazia E Traverso L'espiazione Chiaro E Puro Ditemi Che Mi Fia Graziose Caro Ditemi E la Cosa Per Me Sarebbe Una Risposta Pacevole E Gradita Fia Sappiamo Deliva Da fieri Quindi Sarà Per Me Graziosus Da Grazie In Abbondanza Grazioso Quindi Ditemi Che Le vostre parole Certamente A me Saranno Care E Piene E Cariche Di Grazia Se c'è Un'anima Qui tra voi Di origine Latina Con Latino Anche qui E' una Sineddo Che La Parte Per il Tutto Con Latino Intendiamo Chi Poteva Aver Dimorato Essere Vissuto In Italia E Forse Lei Sarà Wonsi L'apparo E Forse Se io L'apparo Da parare Preparare Apprendere Se io Lo Apprendo La cosa Sarà Per lei Di Giovamento Ricordiamoci Sempre Il principio Dell'intercessione Delle Preghiere La verità Cristiana Che Vede Un corpo Unico Che Ci unisce A I Vivi E Ai Morti Laddove I Vivi E I Morti Possono Giovare Ancora L'uno L'altro Attraverso La Preghiera Vediamo La risposta Di una Di queste Anime O O frate O frate Mio Ciascuna È Cittadina Di una Vera Città Ma tu Vuoi dire Che Vivesse In Italia Peregrina O frate Tipicamente Latino O fratello Mio Guarda Che Tutte Le anime Sono Cittadine Di un'unica Città E Della Città Celeste La Genosalame Celeste Ricordatevi Il Decivitate Dei Agostino Tu Forse Vuoi dire Se C'è Qualche Anima Peregrina Che È Vissuta Peregrina Straniera Da Peregrinus Latino In Italia Questo Mi Parve Per Risposta Udire Più Innanzi Al Quanto Che Lado Io Stava Ondio Mi Fece Ancor Più La Sentire Mi Parve Di Sentire Queste Parole Per Risposta Più Avanti Di Dove Mi Trovavo Allora Ondio Probabilmente Ripone La Stessa Domanda Più In Là Mi Feci Sentire Ancora Più In Là Tra Altri Vidì Un'ombra C' Aspettava In Vista E Se Volesse Alcun Dir Come L'omento A Guisa Dorma In Sù Levava Vidi Tra le Altre Un'ombra Che Mi Aspettava E Potevo Capire Questo Perché La Vedevo In Una Posizione Particolare In Vista E se Qualcuno Mi Potesse Mi Volesse Chiedere In Che Modo Mi Mi Ho Accorto Di Questa Attesa Rispondo Stava Colmento Levato In Sù Come Un Orbo Aguisa Dormo Di Nuovo Una Seminitudine Come Un Ceco Spirto Dissio Che Per Salir Ti Dome Se Tu Sei Quelli Che Mi Rispondesti Fammi Di Conto O Per Luogo O Per Nome O Spirito Che Ti Dome Domare Che Ti Purifichi Domare Sottomettersi Purificarsi Anche Questo Termine Latino Per Salire Alla Prossima Cordice Quindi Giungere Al cielo Se Tu Sei Quella Che Mi Ha Risposto Fammi Fammi Ti Conto Conto Deriva Da Contus Calcolo Spiegazione Ragione Dammi Una Ragione E Quindi Presentati Dimmi Il Tuo Nome Dimmi Di Dove Sei O Di Dove Sei Stata La Risposta È Questa Io Fui Sanese Rispose E Con Questi Altri Rimendo Qui La Vitaria Lagrimando A Colui Che Se Ne Presti Io Fui Di Siena E Con Tutte Queste Altre Anime Rimendo Da Medeor Latino Deponente Con Un Re Messo Damanti A Medeor Che È Retroattivo Quindi Sostanzialmente Cerco Di Rimediare Qualcosa Che Ho Commesso In Passato Quindi La Mia Vita Re Aria È Un Altro Termine Tipicamente Latino Piangendo A colui Che Se Ne Presti Presti Anche questo Un città latina Prestare Stare davanti Piangendo A colui Che Perché Potrebbe essere una finale Si Presti A noi Si Presenti A noi Si Riveli A noi Savia Non Fui Avegna Che Sapia Fossi Chiamata E Fui Degli Altrui Danni Più Lieta Sai Che Di Ventura Mia Allora Ne Sapius Latino Vuol dire Ignorante Da Ne Sapius Viene fuori Sapere Che vuol dire Aver senno Se io metto Però davanti A sapere Un ne Vuol dire Non avere Senno Allora Costei si chiamava Sapia Quindi Dal nome Che gli era stato Attribuito Avrebbe dovuto Essere Saggia Ma A quanto pare La stessa Anima Ci dice Non fui Sabia Avvenia Che Questo Avvenia Che Era tipica Perifrasi Latina Di Avvenia Tut Avvenga Che Che qui Ha il valore Di Sebbene Sebbene Io fui Chiamata Fossi chiamata Sapia Da Savia E avrei Quindi dovuto Essere Piena Di senno Io non fui Per niente Saggia E qual è La ragione E fui Latino Latino E perché tu Non creda Che io ti inganni Odisi Fui Come io ti dico Folle Già Discendendo L'arco Di miei anni E perché tu Non pensi Che io ti stia Ingannando Stia esagerando Ascolta bene Come io fui Pazza Già discendendo L'archio Dei miei anni Qui la vita È rappresentata In una metafora D'arco Quindi io avevo Già superato La metà Dei miei anni Quindi avevo Superato I 35 anni E questo Discendendo A valore Concessivo Sebbene Ormai Avesse superato I 35 anni E quindi Avrei dovuto Aver Acquistato Negli anni Precedenti Un po' Di discernimento E racconta Una Delle sue Pazzie Delle sue Follie Sapia Ed è questa Eran Li cittadini Miei Presso A colle In campo Giunti Con loro Avversari E io Pregavi Dio Di quel che Vole I miei cittadini Quindi i pisani Erano arrivati Presso Il colle Dove avvenne Nel 1269 L'ho scritto qui Una battaglia Tra Ghibellini E pisani I Ghibellini Pisani Che avvenne Tra i ghibellini Pisani E i guelfi Fiorentini Pisani erano Ghibellini E i guelfi Erano fiorentini E io Pregavo Il Dio Evidentemente Essendo pisana Avrebbe dovuto Pregare il Dio Perché i pisani Ne uccissero Vincitori E invece Proprio Per Invidia La sua preghiera È Completamente All'opposto A un obiettivo Contrario Rotti Fuor Quivi Evolti Negli amari Passi Di fuga E Veggendo La caccia Letizia Presi A tutte Altre Dispari Tanto Che Volsi In su L'ardita Faccia Gridando Adio Mai Non ti temo Come fa il merlo Per la poca Bonaccia Dunque I miei I cittadini I cittadini Di Pisa Fuor Furono Notate che questo fuor Non c'è soltanto Un troncamento Ma abbiamo anche Una sincope Furono Rotti Furono Sbaragliati Da rottino Rotti Sbaragliati E Volti Negli amari Passi Di fuga E Furono Costretti Alla fuga Qui abbiamo Amari Passi Quindi Abbiamo Una Sinestesia Poi Con Volti Non l'ho messo In crassetto Però Valutatelo Come crassetto Dal latino Volvere Furono Piegati Amari Passi Potrebbe essere Una metafora In poche parole I miei Concittadini Furono Sbaragliati E io Mai Ricordatevi Ricordatevi che Omai È una sincope Che viene fuori Da oggi E da mai Io Non ti temo Più E qui abbiamo Una semilitudine E feci Come fa il merlo Per la poca I giorni della merla Il merlo In gennaio Magari Per qualche Tepore Qualche giornata Di tepore Mette fuori La testa E comincia A cantare Come se fosse Arrivata Primavera Sono invece I giorni della merla Così chiamati Anche Per Credenza Popolare E sbaglia Come ha sbagliato Sapia Che si Paragona Per similitudine Ad un merlo Aveva sbagliato I suoi conti Tuttavia Dante Concepisce Una sapia Che alla fine Della vita Si pente E questo pentimento La porta Non all'inferno Ma al purgatorio Pace Volli con Dio In sullo stremo Della mia vita E ancora Non sarebbe Lo mio dover Per penitenza Scemo Se ciò non fosse Camemor Mi avebbe Pier Pettinaio In sulle sante orazioni A cui di me Per carità In creme Mi rappacificai Con Dio E Lo mio dover Non sarebbe Ancora Scemo Per penitenza Questa è la costruzione Quindi È il mio Dover Derivo da Devere Debitus Il mio debito Non sarebbe Ancora Scemo Che deriva Da semis Mezzo Semus Non completo Sarebbe ancora A metà Nella penitenza Se ciò Non fosse Se non fosse Che Pier Pettinaio M'ebbe A memoria In sue sante orazioni Orazioni Orazione Slatino Vuol dire Preghiere Se Pier Pettinaio Un uomo Senese Vissuto Forse Fino a 100 110 anni In concetto Di santità Così Lo considerarono I senesi Non l'avesse Ricordata Nelle sue Preghiere A cui di me Per caritate Increbbe Al quale Increbbe Si rivolse la pietà Su di me In nome della carità Qui è un po' difficile Renderlo così Letteralmente In italiano In italiano Corrente Increbbe Deriva Da ingravescere Di venire grave Dispiacere Aver pietà Quindi Nella costruzione italiana Non sta più bene Un termine Diremmo Che Ebbe Pietà di me Per carità Per amore Proprio Quell'amore Che Sapia Non aveva conosciuto In questo mondo Perché l'invidia È l'opposto dell'amore Ma tu Chi sei Che nostre condizioni Vai dimandando E porti gli occhi sciolti Come io credo Espirando ragioni Sapia Chiede Notizie di Dante Ma chi sei tu Che vai dimandando Sulle nostre condizioni E porti gli occhi aperti Come io penso E ragioni Respirando Sente Sente Sapia Il respiro Di Dante Sappiamo che I ciechi Hanno Sviluppato Particolarmente Gli altri sensi Risponde Dante Gli occhi Di Sio Mi fieno Ancor Qui Tolti Tolti Ma piccio Il tempo Che poca È l'offesa Fatta per essere Con invidia Avolti Dante Dante Pensa Il giorno In cui Dovrà Lui Scontare Le pene Del purgatorio E dice Gli occhi Mi Saranno Tolti Quindi Io Patirò Questa Pena Questo Fieno Deriva Da fieri Quindi Mi saranno Resi Diciamo Deficienti Mancanti Ancor Che deriva Da Ancor Oram In questo punto In questo luogo Ma Per poco Tempo Che poca È l'offesa Perché L'offesa Il mio peccato Di invidia È minimo E Difficilmente I miei occhi Si sono volti Con invidia Verso gli altri Infatti I superbi Non sono invidiosi Dirà Dante Nella strofa successiva La mia preoccupazione Piuttosto l'altra La prima Cormice Mi sento già Il peso Del Del masso Che dovrò portare D'altra parte La superbia Era già stata denunciata Nel primo canto Al tormento Della cornice Di sotto E già Mi pesa Il carco Il peso Che mi aspetta Laggiù Ed è la me Chi t'ha dunque Condotto Quassù tra noi Se giù Ritornar Credi E io Costui Che veco E non fa motto Riprende Sapia Chi ti ha condotto Chi ti ha guidato Qui Su da noi Se pensi Di tornare Di nuovo Sulla terra E la risposta Di Dante Costui Che è con me E non fa motto Questo motto Deriva da Mutire Borbottare Che poi Dà origine In tarda latinità A mutum Che diventa parola Costui Che non fa parola Colostui Che è in silenzio E vivo Sono E però Mi chiedi Spirito eletto Se tu vuoi Chi muova Di là Per te Ancorni morta i piedi E sono anche vivo E però E perciò Chiedi O spirito eletto E letto Perché sei destinato Al paradiso Se vuoi Se tu vuoi Che io muova Muova Qui la caduta Del dittongo Muova Di là Cioè sulla terra I miei piedi In tuo favore Risposta Di Sapia O Questa E audirsi Cosa nuova Rispose Che gran segno È Che Dio Tami Però col prego Tuo Talormi Giova O questa È una cosa Veramente eccezionale A essere udita Viene Voglia di ricordare Il supino passivo latino A essere udita Uditu È così nuova Perché No Non è una consecutiva È una esplicativa È cosa nuova Per il fatto che Rivela Quanto Dio Ti ami Attenzione però Che l'amore di Dio Nella regoria Dantesca Non è rivolta Solamente a Dante Dante Rappresenta Tutta l'umanità Però Perciò Mi Giova Col Tuo Priego Quindi La tua Prighiera Mi può Giovare E Cheggioti Per quel Che tu Più Brami Semai Calchi La terra Di Toscana Che Mi Propinqui Tu E allora Oltre alle tue Preghiere Io ti chiedo Per quello Che tu Brami Questo Bramare Deriva da Per amare Latino Per quello Che tu ami Più intensamente Semai Calchi la terra Di Toscana Semai Dovessi passare In vita Ancora In Toscana Che tu Possa Rinnovare Rifami Rifare una fama No? Possa Rinnovare Il buon Ricordo Di me Presso I miei Parenti Propinqui E di nuovo Un latinismo E vuol dire Parenti Gli ultimi Quattro versi Però Del Canto Tredicesimo Rivelano Una Sapia Che a quanto pare Deve ancora Scontare Un lungo Periodo Nel purgatorio Perché c'è ancora Quell'astio Quell'astio Che lei stessa Ha denunciato Ha confessato Nei confronti Dei suoi concittadini Senesi Infatti Gli ultimi Quattro versi Sintetizzano Due pensieri Abbastanza Interessanti Tu li vedrai Tra quella gente Vana Sta parlando Dei senesi Che spera In Talamone E perderagli Più di speranza Che a trovare La Diana Ma più Vi perderanno Gli ammiragli Cos'è Talamone? Siena A un certo punto Tenta Di avere Anche lei Un porto Per il commercio Gente vana Dice Sapia Perché Secondo Sapia È andata incontro A dei sogni Proibiti Quasi a voler Emulare Le città Marinare Italiane Quale Pisa Amalfi Genova Venezia E così anche Siena ha voluto Acquistare Uno scalo Sembra però Che questa sia Più che altro Una cattiveria Di Dante Perché Talamone Storicamente È un porto Che a dire Degli storici È servito Per diverso tempo E deve servire Anche a Fiorentini Quindi Non è da intendere Questa Questo è un progetto Vano E Però Sapia Paragona Questo progetto Alla ricerca Della Diana La Diana È un fiume Cercato tante volte Dai senesi Con Secondo Molti Uno sperpero Di denaro inutile Perché si pensava Che sotto Siena Passasse un fiume Che avrebbe potuto In questo modo Dare acqua Alla città Quindi Il porto di Talamone Sarebbe per sapia Uno sforzo vano Ne più ne meno Come la ricerca Della Diana Anzi Dice In quel luogo Cioè a Talamone Vi perderanno La vita Gli ammiragli Con ammiragli Si pensa Anche se non è chiaro Il pensiero Coloro Che avrebbero dovuto Guidare la flotta Di Siena In quella zona Di Talamone Malarica Avrebbero trovato La morte Con questo Si conclude Il secondo La seconda cornice La visita Alla seconda cornice E Virgilio Cancellerà Una seconda P Dalla fronte Di Dante E Dante Sarà pronto Per passare Alla terza Alla terza